Pongo la stessa domanda anche a te Michele, come è stato giocare con un nuovo elemento come Gennaro dal punto di vista offensivo, che stasera è stato quello predominante, laddove le difese sono un po' mancate da entrambi le formazioni? Chiaramente Gennarino fa canestro, quindi non ce n'è tanto da raccontare, diciamo che con il suo arrivo gli spazi sono un po' aumentati per tutti, perché comunque non lo possono battezzare, quindi crea delle soluzioni anche per gli altri molto positive. È stata una settimana un po' impegnativa, perché comunque una settimana inserire un giocatore non è mai facile, né per noi né per l'allenatore immagino, però mi sembra di vedere dalle statistiche che siamo andati abbastanza bene, cioè alla fine ho fatto come hai detto te il 5 assist, potete fare un pochettino più canestro da 3 punti, però vabbè ci può stare nel senso, nell'insieme, però va bene nel senso, per adesso è stata una settimana positiva, speriamo che siano così tutte le domeniche. Come dicevi tu, ne ha giocato già la squadra con il duo formato da te e mossi, 18 su 28 dal campo, con gli spazi creati appunto da questa giunta, è già evidente, e anche Grugnetti vicino a una doppia-doppia, proprio perché ha aiutato e supportato nella regia. E diventa, penso anche per voi, molto più divertente in campo. Beh, certo, fin quando fai canestro è sempre divertente, c'è poco da dire, però speriamo che questa soluzione, inserire un giocatore importante, ci porti fino in fondo, perché l'obiettivo lo sappiamo tutti qual è, quindi non ci nascondiamo. Perfetto, se non ci sono altre domande, siete liberi da andare. Grazie. Grazie. Grazie.